Non voglio cavarmi la gasolina, mettilo la gasolina Oh bro, adesso veramente, oh bro, ho 30 anni porco dio, ne ho 15, devo un attimo calmare Ma per ora stai cantando in macchina? Eh lo so bro, non è che è un bel esempio, perché chi mi guarda cazzo dai Calmiamoci un attimo, facciamo i seri, dove mi porti a bere bro? Quando siamo a tre mazzi andati, vediamo com'è Allora, ora tendenzialmente è freddo, per cui dovrebbero uscire carte basse, come dicevo prima Cazzo piccola Zypevs, puoi difendere l'imputato Salve Ecco, salve No, è colpevole, basta La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba Ma sono spavolato e mi hai già fatto dando la caduta, ma perché? Cosa ti prendo? Ai se te pego, ai ai se te pego Oh no, ho il 5% in batteria Dai, dai, già mi si è abbassato dare un'unitosità Grazie piccola Grazie lord Ciao, ho ritrovato su Instagram una compagna delle elementari Sono psati dieci anni ormai, vorrei scriverle Cosa mi consigli di scrivere per rompere il ghiaccio? Grazie a sti cazzi Oh, se la prende col Poz E' il Poz però E' il Poz di merda, bannatelo, bannatelo dalla mia stream Scusate, io ho portato un po' X-Ride Arts E' lui sempre un piacere rinnovare No, non sono io Tutti uguali, solo questi immigrati No, mi scusi Mi scusi Tiz, va bene? Sì No, tiz Ma come tiz? No, tiz Allora, allora No, no, no Voi non mi pigliate per il culo Io ho visto una clip dove il test è stato rotto in precedenza This is a test donation for 96 euro Grazie John Non dovevi John Per i 96 euro Oh, 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 shit John Oh my fucking God Oh my fucking God John, sei pazzo bro Luda che ci fa male, ci fa tutti molto male Come si va a pescare a martedì? In Pullman Marco, porterai Minecraft? Minecraft? Ehm, vabbè, no Finalmente l'incontro Per colpa di Social Boom che è presente Infatti lo andremo a stabilare insieme Vabbè Non d'accordo? Allora vediamo Una stretta di mano pacificatoria Una stretta di mano pacificatoria, vai Vabbè, viva la vicenda Evviva l'amicizia Evviva No No, no No, mi ti prego Allora, rispondo a questa domanda Ma tu spenderesti mai Mille dollari per un pepo? Dipende dalle disponibilità di una persona Ragazzi, è finito l'effetto sorpresa di questo video? E' così 11, 2, 3, 4, 15 Quindi, Lezzo, tocca a te Grazie Turflan, questa canzone farà finire la depressione nel mondo Eh? Eccomi Gialli, neri, bianchi, brutti e belli Che un padani siamo tutti fratelli Vai, 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 vai a partita Testa l'ha schiacciato Eli, è un professionista Bene, bene, Davi Ma qua nessuno esplode Ecco alla che gliel'ho tirata Scosta Beh Voglio bere Mi piacerebbe abbattere lo stigma che c'è dietro il concetto di egocentrismo Non è negativo voler essere riconosciuti dagli altri, desiderare riconoscimento Cioè il palcoscenico è fatto anche per questo alla fine Tutti gli attori quindi sarebbero da abiasimare? No ma non devi fare quella faccia da cazzo mentre parli Eh, ha una coscienza Non è meglio di no Per l'alito credo Ma sei fazzito? Prendi almeno il mio numero di telefono No guarda, è meglio di no, lascia stare Guardia È facile da ricordare 69, 69, 69 Ma per cortesia! Che schifo! 69 E non so neanche se tutte queste scuse poi sono sempre sincere Fate le trasghezioni 100% non dico spito Scoprite che si paga un prezzo La mitosi è un processo molto organizzato Che serve a garantire che le nuove ciali No ma cos'è questo? Perché c'è un emote di un pene che è comparsa? Possiamo bannare? No, è un cane, scusate Siamo all'apice di Twitch! Stiamo strimando Siamo all'apice! Let's go! Ci prendiamo Twitch Italia! No, non mi smutare nel drink No, scusa, scusa Prima che mi banano Voglio trovare una ragazza in live ora Eccoli qua Guarda E qua? Oh, aspetta! Oh! Che culo! Vabbè! Vabbè comunque ben WP E di farire! Vabbè, vabbè ci sto Ci sto a tirare Oh Dio! Niente foto Però mi puoi fare Mi puoi tenere la diretta Mentre mi siedo sul trono Va bene Mi tocca fare questa cosa Opla Ti senti importante Su questa poltrona? È bellissimo Il mio gioco preferito Carlo Carlo Vieni pure avanti Non aver paura Ehi Salve Sono Carlo Piacere di conoscerla Sono la professoressa Lemble Pensate come siamo messi Che ti devo donare i soldi Per parlare Non pensissi a dittatura questa? Sì No Non la penso È zitto! È zitto! È zitto! Allora se volete farci ridere Rimettete quello che ci ha fatto ridere Mi andrebbe di sposarmi Se mi andrebbe di sposarmi Sono andati alla città Vi ho lasciati andare là Pericoloso, eh? Mi piace il pericolo a me Oh! Viva! 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 E come si dice in Veneto? Viva! Viva! Come si dice in Veneto Tomare Homo! No! No! Sascha Era fidanzato con questa ragazza e poi non è più stato affidanzato con lei ci sono lasciati le strade si sono divise non è stato affidanzato con lei lui è stato affidanzato con lei ok Tavizio ma dov'è Funzio? grazie come si chiama il server? come l'hai trovato? come l'hai trovato?